Eh sì Dario, c'è il tecnico Andrioletti, stavamo ascoltando anche la vostra disamina sul Napoli ed io mister pensavo anche a un parallelismo tra le due squadre, Napoli e Benevento. Effettivamente anche questa sera il Benevento che crea tanto, ma non segna e al primo episodio subisce gol. Sì, ora i parallelismi mi vengono un po' complicati, il Napoli viene dallo scudetto, ne veniamo da una retrocessione coccente, quindi il punto di partenza è sicuramente opposto. Per quanto riguarda la partita, se parliamo della partita dispiace, dispiace perché abbiamo creato i presupposti questa partita per raccogliere punti e anche questa volta purtroppo non riusciamo a raccogliere niente subendo praticamente gol, è l'unica occasione che abbiamo concesso all'avversario. Effettivamente nella ripresa soprattutto diverse occasioni, ricordo quella di Improta ma anche di Ferrante e il Kawakibi. Ecco perché si crea, generalmente si dice nel calcio che quando si crea l'aspetto è positivo, però mancano i gol, perché mancano i gol? Questa volta il Benevento scende in campo con due punti vere, Marotta e Ferrante. Sì, credo che il rammarico sia questo, legato al fatto che abbiamo creato un'altra volta i presupposti per fare gol con occasioni clamorose, pali, traverse, parate del portiere, salvataggi sulla linea. Uscire oggi in una sconfitta in un derby fa male, siamo molto dispiaciuti e amareggiati perché sappiamo quanto tutti, quanto la nostra gente, quanto noi stessi, quanto i ragazzi ci tenessimo a questa partita. Siamo, ripeto, molto dispiaciuti perché perdere ci può stare, anzi non ci sta mai in un derby a ci può stare se gli avversari ti sovrastano. Se invece fai una prestazione di questo livello dal punto di vista dell'intensità, dal punto di vista dell'aggressività, del dominio del gioco, il secondo tempo sei giocato praticamente a una porta sola, ti dispiace perché obiettivamente hai fatto tutto quello che serve per pareggiare e non ci sei riuscito. Ci manca un po' di lucidità, di cinismo sottoporta, ce lo diciamo da qualche tempo. Purtroppo oggi l'abbiamo pagato a caro prezzo. Manca la lucidità sottoporta, però anche troppe sbavature dei singoli, troppi errori, soprattutto a centrocampo. Karic non era il solito che riesce a dare sempre qualcosina in più, soprattutto nella fase di interdizione, sbavature anche per il Kawakibi. Forse la si sentiva troppo questa partita? Che fosse una partita importante per la nostra stagione, questo era innegabile, lo sapevamo tutti, però obiettivamente penso che la risposta ai ragazzi sia stata di alto livello. Poi è chiaro che se parliamo di qualità tecnica, quando affronti un avversario che si difende in 11 sottolinea della palla, qualche errore tecnico ci sta, perché comunque diventa complicato, gli spazi sono stretti, le pressioni degli avversari sono sempre molto aggressive, diventa complicato. Però se parliamo di atteggiamento dei ragazzi, io penso che i ragazzi anche oggi siano stati straordinari per quello che hanno dato per quanto riguarda l'intensità e la voglia di vincere questa partita. È chiaro che oggi il rammarico c'è, perché penso che più di ogni altra partita, e ne abbiamo fatta più di una, di questo livello e perderla fa davvero male, soprattutto poi in un derby. Perché Sorrentino al posto di Ferranti? Soprattutto perché tutti quei cambi in un momento in cui il Benevento comunque stava venendo fuori? Ma siamo partiti in quel momento di mettere un attaccante che in settimana aveva trovato spesso gol, ci dava lucidità, con tanto Ferranti lo vedevo un po' sottotone, quindi mi sembrava giusto la possibilità, un ragazzo che avevo visto molto bene, pimpante, negli ultimi giorni di settimana. Abbiamo cercato di mettere più qualità possibile in campo, proprio per gli spazi stretti avversari, studentati Bolsius, giocatori che hanno colpi per determinare, cosa che fino a quell'aumento magari nelle rifiniture ne avevamo stati così precisi, però ripeto, al di là delle scelte, quando parliamo di una partita in cui hai preso gol, è l'unico mezzotiro che hai preso, hai creato pali, traverse, miracoli dei portieri, salvataggi sulla linea, poi commentare tutto diventa davvero oggi molto difficile. Ultimissima, te la devo fare perché giornalisticamente ci sta. Hai avuto modo di parlare con il presidente Vigorito, senti la fiducia della società? No, obiettivamente è finita la partita, di solito passo a battere un 5 ai ragazzi e poi mi distacco come lo sta per chiacchierare, per vedere un'analisi anche loro di come hanno visto la partita con il presidente, non ho parlato, io so quello che stiamo facendo, obiettivamente il percorso nostro è molto chiaro, stiamo lavorando, siamo partiti, è una situazione che conosciamo tutti, da parte mia c'è il massimo entusiasmo, il massimo entusiasmo di lavorare, la massima voglia, sapendo obiettivamente che la situazione non è semplice, ma lo sapevo anche prima di arrivare che ci sarebbero state queste difficoltà.